15 voti favorevoli, 4 contrari ed una stensione. Con questi numeri ieri sera il Consiglio Comunale di Enya ha approvato una proposta presentata dalla lista civica Wundnis Neumarkt con la quale si chiede l'indizione di un referendum popolare riguardante il progetto della Galleria Ferroviaria del Brennero. Il tutto a fronte delle forti preoccupazioni su una delle cosiddette gallerie finestra che dovrebbe essere realizzata proprio nel comune della bassa tesina e che consentirebbe l'accesso al tunnel. Sappiamo che abbiamo una finestra sul territorio del comune di Enya e una su quella di ora e vorremmo anche capire il perché. Abbiamo poi problemi idrogeologici riguardanti l'acqua. Vorremmo un po' capire di più tutto qui e un po' di democrazia in più anche per incidere a favore dei nostri cittadini. La questione è delicata, si temono impatti pesanti dal punto di vista dell'inquinamento acustico e sono molte anche le perplessità di carattere urbanistico. I timori in sostanza sono diffusi, prova ne sia che pur essendo partita dall'opposizione la proposta è stata accolta anche dalla maggioranza e Svop compresa. Il problema è più ecologico, noi abbiamo la perplessità che il paese di Enya verrà con questa finestra che viene aperta a sud del comune, cioè a pochi metri dal centro abitato sicuramente porta o crea dei disagi, sono indest acustici, alla popolazione, io sono convinto fin quasi al centro di Enya.